Nelle Marche sono 7.167 le attività collegate alla cultura, spaziano dalle imprese creative e le più specificamente culturali, comprese quelle connesse al patrimonio storico-artistico e alle arti. Queste imprese generano alla regione un valore aggiunto di 2.249 milioni di euro, con 41.900 addetti. Il ruolo della cultura è stato il fattore analitico alla base del convegno organizzato da Confartigianato Imprese, Ancona, Pesaro e Urbino, svolto all'interno della loggia dei mercanti di Ancona, dove ha preso parte un dibattito costruttivo sul ruolo della cultura per le economie del territorio. Contaminazione per trovare progetti di sviluppo per la nostra economia, mettendo in sinergia i territori, mettendo in sinergia le istituzioni come le università che fanno cultura e aiutano le piccole imprese a uno sviluppo che in questo momento è più che necessario. Al convegno ha preso parte anche una delegazione di Confartigianato Imprese di Padova, a dimostrazione che l'artigianato legato alla cultura ha un ruolo strategico e dove il maggiore contributo è rappresentato delle attività più tipiche del Made in Italy. Padova, subito dopo Venezia, con cui non si può assolutamente competere, e Verona è la terza città del Veneto per flussi turistici. Su questo stanno nascendo tantissime imprese, soprattutto di giovani, ed è quello che noi andiamo a finanziare anche attraverso lo spin-off, oppure piccoli incubatori di imprese e sono i giovani che in questo momento ci stanno dando il massimo della soddisfazione. Importante contributo al convegno è stata la presenza di due rettori delle Università Politecnica delle Marche di Padova, il quale hanno identificato il potenziamento del ruolo della cultura, avvicinando sempre più il mondo accademico, formando le nuove generazioni ad un livello di cultura sempre più elevato e utile nell'ambito lavorativo. Il tema è fondamentale, ragionando uno sul fatto che dobbiamo creare le condizioni affinché non solo trovino un'adeguata retribuzione ma anche un'adeguata posizione. Poi sviluppare degli strumenti che in parte già ci sono, pensa al rapporto che hanno tutte le università marchigiane con la regione Marche, su delle borse di dottorato come quelle Eureka, che vanno proprio nella direzione di una sempre più forte integrazione e collaborazione con il mondo delle imprese. Grazie e complimenti al magnifico rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Gregori.